allora eccoci qua abbiamo stipulato un atto questo è il mio cliente venditore ciao aldo com'è andata daniele è stato una persona molto attenta e molto precisa e stupolosa mi ha guidato perfettamente a raggiungere l'obiettivo sono molto soddisfatto del suo operato grazie e qui ci sono gli attivanti eccoci com'è andata come ritrovati benissimo anche ai tempi del covid ci siamo riusciti tutto bene daniele perfetto educatissimo è una persona in gamba in gammissima ok grazie grazie sono contento che siete contenti alla prossima ciao